Ehi! Porca troia che spavento deficiente del cazzo! Ti sono mancato eh! Ma guarda, proprio per niente se devo dire la verità, ma tralasciando l'infarto che mi hai fatto venire, dove cazzo sei stato finora? Ma un po' qua, un po' là! Ma sbaglio o hai cambiato voce? No! No, perché sembra che tu... Ah, può essere, perché nel frattempo hai cambiato il programma per editare i video! Programma? Vabbè, non cagare il cazzo, non sono qui per questo, guarda qui! Cosa... cos'è? È il video di un no youtuber che ringrazia per i 100 iscritti! Ma si può essere più falliti di così? Che cazzo ringrazio per un traguardo che ormai qualsiasi canale di merda raggiunge? E lui ringrazia! Che coglione! Simpatico, sì, ma... Scusa, so che per te sembra una cosa strana, ma io dovrei tornare a lavorare, devo tornare a rileggere il copione. Posso? So che per te è strano. Sì, sì, va bene, vai pure, vai pure. Grazie. Coglione! Abbiamo superato i 100 iscritti. Grazie a tutti per il supporto. Ma non siamo qui per questo. Quest'oggi siamo qui per parlare finalmente del meglio del 2016. Nello specifico per quanto riguarda i videogiochi. Ma come avrete notato dal titolo leggermente diverso, quest'anno farò un'aggiunta. Tanto che mi pareva brutto fare un video dove parlo solo bene di un qualcosa, non fa parte del mio DNA, va proprio contro la mia natura, ho deciso di dedicare uno spazio anche al peggio del 2016. Non so perché non lo feci anche l'anno scorso, vai a capire che cazzo mi passava per la testa. Quindi oggi vedremo anche il peggior gioco che ho giocato nel 2016. E in più vorrei fare anche delle specie di honorable mention, ovvero parlare, citare rapidamente di quel gioco e in futuro di quell'anime o di quel manga che è arrivato al secondo posto, sia nel positivo sia nel negativo. Quindi iniziamo dalla menzione d'onore in positivo, ovvero, sorge da sotto, Life is Strange. Questo gioco è la prova che non bisogna avere 50 miliardi di dollari di budget per fare un bel gioco. Anzi, se proprio bisogna spaccare il capello in quattro, tecnicamente il gioco è fatto con due lire. Praticamente sono quasi assenti le texture e soprattutto i capelli sembrano fatti di plastilina. E in un gioco qualunque questo sarebbe stato un fattore che ne avrebbe determinato la bocciatura totale. Ma Life is Strange colma questa lacuna con una signora trama, basata principalmente sulle scelte che fa il videogiocatore. scelte veramente coinvolgenti. Oddio, all'inizio sia la trama sia le scelte non sono proprio entusiasmanti. Sono anche un po' noiosette. Però fidatevi, dateli tempo per carburare. Per non parlare poi comunque di una trama con dei colpi di scena degni di questo nome. Parlo con chi l'ha già giocato. Non so voi, ma quando ho visto il finale del penultimo episodio mi sono dovuto cambiare le mutande perché letteralmente ho perso il controllo dello sfintere anale. Quindi, grande trama, gioco consigliatissimo. Anche perché, soprattutto su Steam, si trova a pochi spicci durante i saldi. E se non sbaglio il primo episodio è addirittura gratuito. Quindi non avete scuse per non giocarlo. Sarebbe bello se alcune grandi produzioni che escono annualmente, quindi l'appuntamento fisso annuale con triliardi di dollari di budget con grafica super mega power e pompata imparassero da questi giochi. Perché giochi di quel tipo lì alla fine per quanto se ne parla un mese Life is Strange invece ne si può parlare per anni e verrà ricordato per anni. Ma il vero gioco dell'anno è la mia croce ormai da mesi. È la mia quasi droga giornaliera. Ovvero Overwatch. Scusate, interrompo un secondo il video. Prima che qualche d'uno nei commenti poi caghi il cazzo perché Overwatch va giocata assolutamente su PC sappiate che ho anche quella versione. Continuiamo. Overwatch è stata una rivelazione perché è stata la prova che anche i giochi solo multiplayer possono avere un'anima. Infatti il gioco è stato fatto dalla Blizzard con una minuziosità mostruosa dai personaggi caratterizzati al massimo e con un carisma stratosferico abilità diverse e mappe ben strutturate che rendono il gameplay mai noioso e avvincente. Dettagli nella mappa insignificanti come che ne so al poter distruggere determinati oggetti riferimenti ad altri giochi Blizzard riferimenti alla trama proprio del gioco e ai corti che caricano ogni tanto su YouTube su internet che peraltro vi invito a vedere non solo perché sono molto interessanti per quanto riguarda la trama perché la approfondiscono ma tecnicamente sono mostruosi e grazie ad essi e grazie alla Blizzard ora pretendo un film su Overwatch ma appunto sono dettagli insignificanti perché alla fine non è che vanno ad aggiungere chissà cosa ma che fanno vedere come la Blizzard abbia fatto una ricerca per voler creare voler fare un bel gioco veramente super consigliato non è perfetto sia ben chiaro eh ai difetti che ha un qualsiasi gioco multiplayer un qualsiasi perché ovviamente quello di quello stiamo parlando che ne so magari eh all'inizio dovrete prenderci parecchio la mano questo qui non è un difetto ovviamente eh però non è subito immediato quindi dovete prendervi il vostro tempo per trovare il vostro main per fare le mappe le strategie eccetera problemi di bilanciamento eh ha delle volte dei problemi di bilanciamento soprattutto da un mesetto a sta parte ciao simmetra ma se cercate un gioco multiplayer completo aggiornato regolarmente con una trama ben scritta molto figa eh un gioco molto divertente e soprattutto con tantissime waifu Overwatch fa per voi passiamo alle note negative del 2016 partendo dalla menzione d'onore anzi in questo caso di disonore piccola parentesi non parlerò di pokemon sole si meritava appieno questa posizione ma avendone già parlato in un video non avevo intenzione di approfondire ulteriormente l'argomento perché avrei ripetuto le stesse identiche cose quindi se siete curiosi di sapere la mia opinione a riguardo di pokemon sole andate a vedere il video che ho fatto il gioco però di cui parleremo adesso è batman arkham knight ne avrei voluto parlare l'anno scorso perché l'ho giocato a cavallo tra il 2015 e il 2016 ma come ho detto vai a capire che cazzo mi passava per la testa in quel momento batman arkham knight è un bel gioco è ben strutturato ha una trama interessante graficamente è molto buono e giocandolo mi sono sentito al 100% batman come dice il retro batman sei tu si cazzo batman ero io con i gadget con la batmobile mi sentivo batman nel modo più completo ma cosa mi ha distrutto tutto il finale non per come è il finale cazzo averlo visto il finale perché infatti per raggiungere il vero finale di gioco bisogna catturare tutti i criminali liberi a gotham praticamente fare le missioni secondarie e tra questi c'è uno dei miei preferiti ovvero l'enigmista e per catturarlo bisogna completare tutte le sfide sparse per la città ma quante sono secondo voi queste sfide 20 30 40 vogliamo esagerare 50 no sono 243 tra collezionabili prove a tempo idiote e altre porcherie che dopo averci provato per un paio d'ore alla fine mi sono rotto i coglioni e ho guardato il vero finale su youtube quindi una scelta secondo me sbagliatissima degli sviluppatori che tuttora non riesco a spiegarmi solo per prolungare la vita e la durata del gioco ma ci sono anche altri modi per prolungare la vita e la durata di un gioco senza rompere i coglioni al sottoscritto per non parlare della poca presenza di un altro mio preferito anzi di un'altra ovvero Harley Quinn che sembrava essere dai trailer e dai teaser di gioco tra i principali antagonisti e che quantomeno avesse un'incisività nella trama molto ben marcata invece apparsa quattro volte messa in croce se tutto va bene ed è praticamente apparsa solo per poter utilizzare al meglio la modalità foto del gioco e prendere immagini e screenshot come questi il gioco peggiore del 2016 è un gioco sul quale avevo delle aspettative mostruose un gioco che non vedevo l'ora di giocare che ho atteso anni per giocarlo infatti non è un gioco recente è un gioco di un paio di anni fa perché speravo nell'uscita di una game of the year cioè un'edizione completa che mi garantisse l'esperienza completa del gioco in modo da giocarmelo tutto d'un fiato perché ero sicuro che mi sarebbe piaciuto ho ceduto l'anno scorso e ho deciso di comprarlo comunque anche perché le notizie di una game of the year erano inesistenti e ringrazio Dio per non che il fatto che non esista una cosa del genere e che non l'abbia comprata perché quando ho finito questo gioco solo l'idea di poter giocare di dover giocare i DLC mi metteva letteralmente la nausea e sto parlando di The Evil Within partiamo dalle cose buone del gioco sono poche anzi è una ovvero il design di alcuni nemici un po' di tutti ma soprattutto di alcuni nemici il mio preferito un personaggio che ho adorato e che veramente metto come tra i miei preferiti proprio di design è quella specie di mostro insanguinato tipo The Ring un po' ragnesco no non che non approfondisco per spoiler quello è un signor character design e tutte le volte che appariva nel gioco avvenivano le parti interessanti quindi le parti interessanti di gioco c'erano quando c'era questo personaggio quando c'era questo mostro infatti dura pochissimo quindi avevano una cosa buona e hanno deciso di tenerla poco però il gioco ha grandissimi problemi ma veramente grandi da bug ho riscontrato alcuni bug pesanti che mi hanno costretto a riavviare il gioco che ne so tra quelli che ricordo di più rimanere incastrato in uno scalino o scendere una scala che continuavo a scendere dicevo ma quando finisce questa scala per poi accorgermi dopo due minuti che era una scala infinita che il personaggio era finito sotto la mappa e che quindi potevo continuare per ore quindi c'è appunto dei bug che ti costringevano a riavviare il salvataggio a riavviare completamente il gioco e fidatevi che i checkpoint e i salvataggi soprattutto i salvataggi non sono così spesso quindi sono abbastanza rari quindi dovevo rifare delle sezioni intere ma la parte peggiore sono i problemi che ha di gameplay ovvero non proprio oltre a proprio al gameplay in sé ma come si pone perché il gioco ci viene presentato in una maniera sembra andare da un'altra parte poi però all'improvviso cambia e va da un'altra io mi aspettavo un survival horror all'alien isolation per intenderci era uscito più o meno nello stesso periodo se non sbaglio era comunque il periodo in cui i giochi horror erano associati al survival ovvero evita i combattimenti nasconditi più che puoi munizioni limitate per tutto il gioco medipack limitati quindi appunto ti costringevano a evitare combattimenti e questo è porca troia perché all'inizio viene presentato un sistema di coperture quindi nasconditi nell'armadietto o sotto il letto per evitare i nemici meccanica di gioco che viene utilizzata in quel momento quando ci viene presentata e in un'altra parte più avanti del gioco peraltro per pochissimo tempo munizioni limitate e medipack molto molto rari munizioni si rare ma medipack ancora di più ma il gioco è un action cazzo quindi è uno sparatutto in terza addirittura con delle arene in cui si è obbligato a ripulire ondate ondate di nemici per poter andare avanti e addirittura anche boss fight quindi hanno voluto mettere in un unico gioco due tipologie due generi che non vanno d'accordo perché mi vuoi mettere poche munizioni mi vuoi mettere pochi medipack allora mi fai un gioco stealth un gioco survival appunto alien isolation mi vuoi mettere delle sezioni arena o delle boss fight quindi dove devo sparare per forza allora mi metti più munizioni perché spesso e volentieri ti ritrovi giocando questo gioco appunto in queste arene dove devi per forza sparare e uccidere per poter andare avanti senza munizioni e quindi cosa fai? gli ammazzi col buon umore? con delle battute? no quindi allora muori ripeti 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 tutto all'infinito per non parlare appunto poi dei medipack quanto meno avessero messo un modo per craftarli per dire hai un po' di cose ti fai un medipack almeno quello invece no sono ancora più rari delle munizioni per non parlare poi del sistema di shooting da bestemmie letteralmente da bestemmie quindi poche munizioni un aspetto survival che non va d'accordo con la sua natura action con anche uno shooting becerissimo sì è un gioco parecchio frustrante non so io avevo grandissime aspettative sul gioco e alla fine mi sono ritrovato in mano un gioco con tantissimi problemi che mi hanno fatto letteralmente dannare l'anima e che non so come sono riuscito però a finire non ho idea di come ci sia riuscito nemmeno Dio lo sa anche Dio si sta ponendo questa domanda sì effettivamente si può dire che questo gioco ti fa venire il male dentro quindi questi erano il meglio e il peggio del 2016 per quanto riguarda i videogiochi chissà cosa ci attenderà nel 2017 ho già in mente un paio di titoli che faranno a botte per la migliore posizione per la posizione più alta nel video che farò l'anno prossimo quindi sarà una scelta molto dura spero sia una scelta molto dura perché significa che ho giocato giochi di qualità e noi ci vediamo a breve con il meglio e il peggio degli anime e dei manga che ho visto barra letto nel 2016 in 2016